Come hai avuto le segnalazioni? Come hai avuto le segnalazioni fra privati non necessariamente più grosse perché dicono forse è meglio aspettare che arrivano perché se fallisce lo Stato falliamo tutti piuttosto che in alcuni casi pensate solo al concordato preventivo in continua azienda che ha fatto fallire un sacco di aziende e quindi dicono è vero però mai più lo Stato mi porterà 10 anni come richiedere il saldo di avere un credito per me un credito un debito per l'altra azienda mi porta se tutto va bene. A 10 anni piuttosto che a una transazione che oggi le fanno per esempio le Camere dei Commeri sapendo che i tribunali non funzionano questa è un'altra delle grosse responsabilità del governo italiano. A me risulta che la comunità europea tutti gli anni fa queste osservazioni sulla sburocratizzazione, la semplificazione e queste cose. E' una delle altre carenze. D'altra parte la giustizia civilistica in Italia è quella che è. Quindi dicono preferisco aspettare che arriveranno piuttosto che correre il rischio di perderle. Era un po' questo il mio passaggio un po' forzato sul discorso dei pagamenti tra privati. Io se volete vado avanti vi racconto una storia personale difficilmente io lavoro per grandi aziende l'unica volta che ho avuto la sventura di farla dopo 5 mesi nonostante eravamo ancora in lire. Dopodiché non ci ho lavorato più ovviamente anche perché gli ho risposto qualcosa a telefono. Dopo 5 mesi che avevo finito i lavori, 5 mesi di fatturazione, avevo finito un mese prima e quindi erano 6 mesi. A domanda gli ho detto insomma non sembra il caso di dover pagare. Ma sa il nostro responsabile dice che deve essere un onore per l'impresa lavorare per la nostra impresa. Cosa gli ho risposto a telefono? Ve lascio immaginare, non ci ho più lavorato ma non mi sono assolutamente pentito.